Luca Onestini di nuovo innamorato. Sofia Monti è la nuova fidanzata del modello ed ex GFino. Nella vita di Luca Onestini, l'amore è tornato a bussare con prepotenza alla porta di casa. Da qualche tempo il modello ed ex concorrente del Grande Fratello, tra i tanti reality vissuti tra Italia e Spagna, avrebbe ritrovato l'amore con la giovane Sofia Monti e a confermare l'indiscrezione ci ha pensato anche l'esperta di gossip Dejanira Marzano, che intervenuta in una storia Instagram ha raccolto la segnalazione di una fan, ciao Dejanira, questa mattina Luca Onestini è partito con Sofia per Alghero dove lui avrà la serata. E il riferimento va ovviamente alla Monti, che dunque stasera siederà al fianco di Luca in un appuntamento che Onestini ha ricordato ai fan anche in una storia Instagram. Di recente sempre Dejanira aveva svelato qualche curiosità in più sulla nuova fiamma dell'ex di Ivana Mistera Jova, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte. Luca Onestini sta frequentando Sofia Monti. E, una bellissima ragazza, fa la modella. Nonostante il modello stia cercando di rifarsi una vita, c'è chi non ha mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma con Ivana, conosciuta nel corso della seconda edizione del Grande Fratello e con la quale ha intrapreso una storia durata qualche anno, i due si erano riavvicinati nel corso dell'edizione del Grande Fratello del 2022-23, ma senza alcun nuovo inizio, per la delusione dei fan.